Sono figlio però di due insegnanti e questo aiuto, infatti se fosse qui mia mamma che è del 34 credo esulterebbe in alcuni passaggi che ho sentito molto vivacemente. Sono veramente contento di essere qui, io poi non mi sono occupato di scuola ma mi sono occupato di politica perché ero un cattivo studente come del resto succede a molti politici, io però faccio il giornalista e veniamo al dunque. Sono qui un po' per anche brutalizzare la discussione, cercherò di andare sugli argomenti più concreti, più polemici, quelli che fanno discutere e che magari anche impensieriscono molti di voi di fronte a una riforma che comunque sembra andare avanti un po' come un treno lanciato in corsa, anche vedendo quello che il Presidente del Consiglio e i suoi ministri dicono. Cerchiamo però di fare un confronto e inizieremo con un confronto a due con Rino Di Meglio e la senatrice Mussini, che non vi ero superfluo, la senatrice Mussini è stata ben introdotta da dottoressa Valeria Menti, che ringrazio anche per i materiali che mi ha fatto pervenire e per avermi invitato, quindi faremo una decina di minuti di dibattito su differenze e questioni che attengono la buona scuola di Renzi e del suo governo, la critica, il commento della Gilda e quella che è stata la proposta di Mussini, cioè questa legge di iniziativa popolare che è data 2006, poi è stata portata in Parlamento per due volte e poi in sostanza è caduta in prescrizione per dirla con un termine di moda, cioè non essendo arrivata alla fine del suo iter è decaduta e che però era una proposta molto interessante che arrivava sulla scorta di 100.000 firme, insomma su un percorso di partecipazione molto attivo. E da qui parto, visto che anche la proposta governativa, secondo quello che ci dice il Ministro, il Presidente del Consiglio e la maggioranza insomma che la difende e la discute, è una proposta di legge molto partecipata e condivisa, abbiamo avuto questo periodo in cui si è detto bene ascolteremo, faremo, riceveremo le email e ci sono delle conclusioni anche di tutto questo dibattito che fanno dire al Presidente del Consiglio abbiamo una proposta che abbiamo discusso in modo aperto con genitori, docenti, personale, scolastico e tutti coloro che hanno voluto partecipare. Ecco, parto con Di Meglio, questo le risulta è così oppure no? Poi vediamo come invece è stata organizzata la partecipazione sulla legge di inizia popolare. Ci sono le partecipazioni vere, i dibatti di veri come questo, qui ci sono tanti colleghi presenti, tutti possono parlare, intervenire e poi ci sono le consultazioni con le quali ci si vuole semplicemente dare ragione, diciamo che l'organizzazione della consultazione sulla buona scuola è stata fatta in modo da darsi ragione da solo, questo è stato il sistema utilizzato. Io ho girato l'Italia, mi sono confrontato con tantissimi colleghi nelle assemblee e quando ho detto ma vorrei che alzassero la mano quelli che hanno avuto il tempo di leggersi le 132 pagine di quello che è stato pubblicato come il libello sulla buona scuola del governo Renzi. Di solito ho visto una percentuale dell'1-2% che avevano letto tutto, perché? Perché è una forma di comunicazione innanzitutto studiata apposta per far leggere alcune cose e non far leggere altre, tipo la banca delle ore stava nascosta nelle righe, alcune cose ridicole come gli innovatori naturali stavano nascosti nelle righe. Poi si è organizzato in modo da non ascoltare, per esempio il governo non ha ascoltato i sindacati ma ancora oggi, ancora ad oggi, noi non siamo mai stati ascoltati realmente, eppure i cinque sindacati rappresentativi della scuola iscrivono 550.000 persone, un numero enorme. Io non dico che noi dobbiamo governare, perché ognuno ha il suo ruolo, ma il diritto all'ascolto c'è. Ad oggi né noi, né mi risulta neppure le commissioni parlamentari, hanno avuto un pezzo di carta su cui confrontarsi. Un pezzo di carta significa un disegno di legge col quale puoi ragionare e dire questo va bene, questo no, questa è una stupidaggine, parliamo. Ecco, quindi il confronto vero non c'è stato. Io non sono stato invitato mai a un confronto, un unico dibattito mi hanno invitato, una sezione del Partito Democratico di Roma, una delle più antiche, quella di Trastevere, che una volta era molto affollata. Sono andato lì, c'era un palco come questo, i microfoni, sapete quanti iscritti del Partito Democratico sono venuti ad ascoltare questo dibattito? Quattro. Un'insegnante precaria, un'insegnante di ruolo, un pensionato che dopo un po' si è messo a dormire e un'altra persona sconosciuta. Cioè, i microfoni non servivano. Questa è stata la partecipazione. Qualche problemino a Roma, poi? Eh, questa è stata la partecipazione. Si è manifestato. Eh sì, eh sì, eh sì. Va bene. Non voglio andare oltre, ma diciamo che... Sì, sì, no, benissimo, vedo che le attività intervisibili migliori dei miei, quindi mi sveglio e do subito la parola alla senatrice, che adesso è parte del gruppo misto e che arrivò con questa proposta già nel 2006, quindi ci sono passati un po' di anni, sull'ascolto invece di una raccolta di firme. Ecco, cosa cambia identità e differenze? Sì, allora, intanto vi ringrazio. Io sono felice di essere qui perché io sono insegnante, prima ancora di essere senatrice. Anzi, il mio interesse per la scuola nasce da questo e ora che vedo l'aspetto politico credo che sia importante raccontarvi appunto che cosa sta succedendo, che cos'è questa legge di iniziativa popolare, che cosa sta succedendo. Quando, già quando, ancora prima di entrare in senato, io eri in contatto con i comitati che a suo tempo avevano lavorato e nel percorso ho partecipato per definire, all'epoca si parlava soprattutto di reazione a prima Moratti e poi Gemini e quindi si trattava di definire una serie di principi, prima di tutto, sui quali incardinare invece una proposta di scuola che avesse la novità di non essere dentro ad una legge finanziaria, ma di avere un percorso invece di discussione su che cosa vogliamo dalla scuola, come la vogliamo, come vogliamo che questa scuola riprenda aggiornando quelli che però devono rimanere i principi costituzionali dell'istruzione. Per cui venne presentata questa legge che io ho ripresentato a mio nome facendo che questo era il mio mandato, questo è il mandato concluso all'entrata, facendoli tramite di un'istanza che nasceva appunto da oltre 100.000 firme e da un lavoro che è durato parecchi anni. Questa è la legge, è la legge che è presentata in senato, ha un numero, è un atto che è stato presentato il 3 di agosto, io ho lavorato per fare in modo che questo documento portasse le firme di tutte le forze parlamentari rappresentate in senato, alla luce del fatto che non è tanto importante, che la cosa più importante in questo momento è avere una discussione che abbia tutte le caratteristiche della discussione istituzionale, parlamentare, quindi costituzionalmente prevista e alla luce di questo ritengo che l'apporto di tutti possa essere la medicina migliore per la scuola, perché credo che delle riforme fatte a forza poi ci metteranno nella condizione di magari ritrovarci qualcuno che una volta che cambia la maggioranza di governo ci ribalta tutto e la scuola invece ha bisogno di continuità, i principi solidi e di continuità. Per cui questo mio disegno di legge di fatto è firmato da me che sono ora nel gruppo misto, è firmato da SEL, è firmato da Movimento 5 Stelle, è firmato anche da Forza Italia, da PD e dalla Lega. Quindi voi capite che sono sensibilità diverse nei confronti della scuola, ma tutti siamo riuniti da una volontà forte di far sì che questa discussione abbia un iter parlamentare vero e serio. Presentata il 3 agosto voi capite che quando ci siamo trovati davanti il PDF del governo Renzi ci siamo sentiti un po' schiaffeggiati perché c'è un disegno di legge e questo disegno di legge esiste, è un documento, ha tutta la dignità e la forza anche per poter essere discusso, è stato assegnato alla Commissione parlamentare soltanto mi pare un mese fa, qualcosa del genere e di fatto la Commissione parlamentare non ha mai nella figura del suo Presidente, non ha mai espresso la volontà di incardinarlo, anzi questo è il primo dato, noi vorremmo che comunque questa legge venisse presa e discussa, emendata, cambiata, a seconda delle diverse sensibilità, negoziata, fatto tutto nella massima trasparenza, con la massima visibilità, sotto gli occhi di tutti, con la possibilità dell'apporto di tutti, tramite audizioni, sentendo appunto i sindacati, sentendo le organizzazioni della scuola, cioè quel lavoro che la Costituzione decide che si fa nelle commissioni parlamentari. È chiaro che se noi adesso ci troviamo invece davanti un decreto che tra l'altro è ignoto nei suoi contenuti, nel senso che noi le informazioni sui contenuti del decreto le possiamo dedurre da un pdf che ha già commentato il segretario, quindi non approfondisco. Con una finta consultazione, anche questa è già stata commentata e anche il risultato della consultazione, se volete andarla a vedere in rete, è un risultato nel quale vengono un po' mistificate tutte le critiche che noi sappiamo che sono state fatte alla buona scuola e che non ha avuto l'ascolto di tutti quei collegi dei docenti che comunque si sono espressi, che non ha un'interlocuzione con i sindacati, che pretende per via delle notizie di stampa che abbiamo, che pretende di intervenire su una materia estremamente vasta e complessa per il tramite della definizione di necessità e urgenza. Questa è la prima cosa contro cui noi intendiamo ribellarci. Abbiamo, io come parlamentare ho scritto al Presidente della Repubblica perché nel suo discorso ha sottolineato la necessità di rispettare i ruoli reciproci, c'è un esecutivo che ha tutto il diritto e il dovere di essere esecutivo, in questa legge ci sono tanti aspetti che correttamente vengono demandati ai decreti ministeriali perché è l'esecutivo che giustamente deve dare poi attraverso un suo, un proprio decreto deve dare concretezza ai principi, però è una legge nella quale si fissa alcuni principi tra i quali uno, il primo che voglio citare poi se vogliamo magari approfondiamo è quello delle risorse, perché io prima ascoltavo il Professor Bocchi e mi piaceva moltissimo quello che lui diceva sul ruolo dell'insegnante, nel far crescere e nello stimolare tutti gli individui che ha davanti, la valorizzazione dell'esperienza che non è anzianità come in quell'orrido documento si vorrebbe passare come se l'anzianità fosse il titolo che noi andiamo a mettere in campo, non è un'anzianità anagrafica, stiamo parlando di esperienza, dobbiamo rivendicare il fatto che il nostro servizio è esperienza, non è semplicemente invecchiamento, la formazione continua, balsamo per le mie orecchie, le ore di studio, tutte le ore di studio e di preparazione, il problema della frattura con l'università che si è creata in anni molto lontani è il valore dell'approccio che ha la nostra scuola, però io mi rendo anche conto per mia esperienza personale che oggi un insegnante che è afflitto da un numero di studenti inaffrontabile in un'istruzione che voglia essere individualizzata, afflitto da problemi burocratici infiniti, afflitto dalla necessità di prestare la sua opera anche gratuitamente per non far perdere alla propria scuola l'offerta formativa che si è voluta dare, allora tutto questo si deve risolvere prima di tutto stabilendo in modo chiaro e con una scelta politica ben precisa e definita se si vogliono dare o no risorse alla scuola, perché se si vogliono dare poi la strada si spiana, se non si vogliono dare lo si deve dire con coraggio e con chiarezza e con l'estate. Ecco però, signor Presidente, non ho parlato perché il discorso mi sembrava un effetto interessante e ci aiuta a entrare nei punti caldi del nostro dibattito, anticipo che tra qualche minuto apriremo anche le domande della platea, quindi preparateli perché vogliamo appunto avere un dibattito molto vivo e allora entro subito nei due temi forse più discursi, che credo siano quelli del merito e di questo nuovo procedimento, nuovo processo di valutazione dell'insegnante e l'altro che è quello delle assunzioni di cui tanto si è parlato, ho visto che la Mussini era già un po' sulla questione merito, esperienza, sanzialità eccetera, le propongo quel tema lì. Allora sul merito in realtà molti hanno avuto una reazione positiva, io stesso quando è stata presentata una cosa ho detto beh finalmente gli insegnanti verranno valutati e i migliori potranno avere anche un vantaggio dal punto di vista dello stipendio eccetera. Poi abbiamo la fortuna di ascoltare un dibattito radiofonico più specifico e in effetti molti dubbi vengono. Lei quali punti interrogativi ha nella testa sul merito? Chiariamo subito la questione, gli insegnanti non sono contrari né al merito né alla valutazione, diciamo anche ragazzi, noi proprio come deontologia professionale siamo dei valutatori, noi valutiamo i nostri alunni, diamo dei voti, dei giudizi, ovviamente i buoni colleghi valutano gli alunni non per punirli ma per formarli, la situazione è qualcosa di formativo per indicare eventualmente la cune e farli progredire. La nostra Costituzione ci dà anche delle indicazioni sul merito, ci dice che i capaci e i meritevoli hanno il diritto di accedere a più alti gradi dell'istruzione, quindi non c'è nessuna ideologia contro il merito, ci mancherebbe altro. Il problema qual è? Dobbiamo intenderci prima su cosa intendiamo per il bravo insegnante. Il bravo insegnante chi è? È quello che sposta le carte a scuola? Quello che fanno le commissioni? No, io dico, la risposta è semplice anche qui. È chiaro, il bravo insegnante è quello che conosce bene ciò che deve insegnare e lo sa trasmettere agli alunni. A questo punto come si può valutare l'insegnante? Si può valutare, certo, l'insegnante. Noi abbiamo fatto un sondaggio qualche anno fa, ne abbiamo fatto per due volte, perché? Per capire cosa pensano gli insegnanti di questo problema. Perché l'abbiamo fatto? Perché noi siamo un'associazione grande, soprattutto di insegnanti, e potremmo avere un orizzonte limitato. Magari quelli della CGL, della CIS, della UILA potrebbero pensare diversamente. Il sondaggio ci ha dato la possibilità di avere un'idea generale di come la pensa l'universo dei 700.000 insegnanti italiani. Sapete che ci hanno dato una risposta, che è la stessa risposta che io do al governo, perché è la risposta della nostra categoria. Che l'insegnante è disponibile ad essere valutato a due condizioni. Che chi lo deve valutare sia competente, primo, è più importante delle condizioni, e la seconda condizione è che chi valuta, come qualsiasi giudice, sia esterno alla propria scuola, cioè indipendente. Allora, questo è esattamente il contrario di ciò che si propone di fare il governo Renzi, che siccome non investe un euro nella scuola italiana, perché questa è la realtà, allora come si fa? Bisogna imbrogliare la gente. Facciamo finta di fare il merito. Come lo facciamo? Ci inventiamo, come ha spiegato bene Gigi Dotti, e non lo vado a ripetere, la tessera a Bollini, ci inventiamo una commissione interna fatta da due insegnanti esperti, ma chi sceglie l'esperienza di questi? Da chi è valutata? Guardate, non è serio. Si rapinano gli insegnanti scatti, perché siccome non si vuole spendere, il merito ce l'avevamo già nella nostra scuola, io sono vecchio, e ricordo che fino al 1974 c'erano i concorsi per merito distinto, c'erano gli scatti d'anzianità biennali, poi chi voleva? Ogni due anni poteva fare un concorsino, una volta era per soli titoli, cioè se uno si prendeva più l'acqua, un'altra volta era per chiedere l'esame, ed aveva uno scatto in più. Quindi non è una novità il merito, l'hanno levato per risparmiare, poi ci hanno levato anche gli scatti biennali, l'hanno fatto diventare, comunque qual è la furbizia di questo governo? Che vuole levare dalle tasche di tutti ciò che già c'è per contratto, cioè i pochi scatti d'anzianità che abbiamo, con quelle risorse prenderle e inventarsi un finto merito, e il finto merito non fa bene alla scuola, perché come è stato detto creerà non una competizione, creerà la guerra nelle scuole, la guerra di tutti contro tutti, quindi un pessimo clima, e poi impoverirà ulteriormente tutti quanti. E' per questo che siamo profondamente contrari a questo sistema, perché se dovessi definire con tre parole il progetto nel suo complesso, io userei tre parole, superficialità, ignoranza e arroganza. Durissimo, durissimo di meglio, vediamo se c'era una proposta alternativa nella legge di iniziativa popolare, cioè la questione dell'avanzamento di carriera, del merito, dello stipendio degli insegnanti rispetto a quello che fanno. Lei nella sua legge come la fruttava o me la risolviva? Allora, intanto nella nostra legge noi poniamo il tema della fruttazione con una prospettiva completamente diversa, perché il punto è, e qua mi riferisco a quello che penso che molti conoscano, che è il tema della ricercazione, e cioè all'insegnante preme fare in modo che il proprio lavoro in classe sia fatto bene, sia agile e porti dei frutti. Io credo che a nessuno, perché si deve partire dal presupposto onesto che chi va in classe ha come obiettivo quello di avere dei buoni risultati, mentre sembra sempre che si parta dal presupposto che chi va in classe va in classe per chissà quali altre ragioni. Allora, se le cose non funzionano in una classe, ed è possibile che questo accada, penso che sia capitato a noi tutti, ci sono tantissime ragioni. Alla scuola vengono anche affidati dei compiti che ci spingono anche a dover risolvere dei problemi che non sono solo quelli dell'apprendimento in senso stretto, ma che in qualche modo si riflettono sull'apprendimento. Allora, ciò su cui si concentra questa legge è, per la valutazione, la ricercazione come diagnosi dei problemi fatta insieme dagli insegnanti e da esperti che vengono scelti dalle scuole e che possono, in quanto esperti esterni, possono aiutare a risolvere i problemi. Cioè, il punto è, non confondiamo mai la valutazione dell'insegnante e quello che invece è necessario allo studente per poter migliorare, perché non è che le due cose siano necessariamente l'una interdipendente esclusivamente dall'altra, ci sono molte altre caratteristiche. È chiaro che il merito è fondamentale, è fondamentale nel senso che la capacità, ma è fondamentale nel senso che ciascuno degli insegnanti deve avere il diritto e gli deve essere riconosciuta la possibilità di crescere nella sua carriera, di approfittare dell'esperienza degli altri e di migliorare. Qui noi non entriamo nel merito di aspetti che sono legati al contratto, perché non è di competenza, gli aspetti legati al contratto sono aspetti che devono essere gestiti dalle organizzazioni sindacali con il Ministero. Qui noi fissiamo dei principi e non possiamo spacciare per riforma della scuola quello che invece è un problema economico di definizione del contratto. Questa visione della scuola è una visione che parte, che ha come centro la riuscita di tutto il sistema, insegnanti, personale ATA, docenti, famiglie. In questa proposta c'è la creazione di organi collegiali che sono il Consiglio dei genitori, il Consiglio degli studenti, il Consiglio del personale ATA, il Collegio dei docenti, che è presieduto da uno dei docenti. Cioè c'è una visione che non è né gerarchica e neppure una visione che sia esclusivamente incentrata sull'aspetto contrattuale della figura dell'insegnante. Queste cose sono cose che devono essere risolti in altra sede. Quello che ci preoccupa invece è vedere come questa centralità del successo di tutto quello che avviene a scuola venga sempre messa in secondo piano. Così come l'invalsi, che è vergognoso perché utilizzare l'invalsi non si capisce se l'invalsi venga fatto per valutare i livelli di conoscenze, e questo dovrebbe essere degli studenti, ma poi in realtà viene utilizzato surrettiziamente per andare a vedere la capacità degli insegnanti. Il che è sbagliatissimo perché io minimo minimo devo misurare un differenziale. Tu almeno mi devi mettere nella condizione di dire questo era lo studente quando è entrato in questa classe, il consiglio di classe, perché non è mai l'azione di uno solo, è un'azione collettiva, il consiglio di classe ha lavorato, questo è quello che è uscito, minimo minimo, se vuoi avere un minimo di onestà, altrimenti mi stai prendendo in giro. Quindi noi rigettiamo tutti questi aspetti che sono finalizzati a una ragioneria e andiamo invece a concentrarci su aspetti che sono la diagnosi, la soluzione dei problemi che ci coinvolgono tutti, non è che debbano essere usati per dare la colpa agli uni agli altri.